E' meno male che si fuori cominciare a ballare, se no era un disastro, mi raccomando giustamente come ha già anticipato, hanno già anticipato non assembrarsi, non abbracciarsi troppo, non limonate in mezzo alla palera, state un attimino distanti diciamo. L'importante è essere qui a divertirsi, essere qui tutti insieme ed essere qui come dico sempre e qui ringrazio Alessandro Canelli perché ovviamente anche lui con me ha fatto questo percorso per dare una parte di finalmente divertimento e di pensare finalmente diversamente da quello che è stato fino a pochi giorni fa, cioè tutti noi eravamo spaventati, la categoria anziani lo sapete meglio di me purtroppo è stata quella che è stata più colpita, quindi immagino che non solo per quello che riguardava la parte sanitaria ma anche per quella emotiva perché ognuno di noi ha fatto almeno tre mesi di arresti domiciliari. Torniamo questa normalità con intelligenza, con saggezza, divertiamoci perché è importante e cancelliamo questo percorso passato.